Ma chi è l'avvocato matrimonialista e che differenze ci sono tra il divorzista, il familiarista e il matrimonialista? Ma in pratica ormai sono la stessa cosa. Diciamo che familiarista fosse il termine più corretto, visto che oggi non c'è soltanto il matrimonio a consacrare l'inizio di un amore e di un sodalizio familiare, ma ci sono le coppie di fatto, ci sono le unioni civili. Ed è giusto quindi parlare di famiglia, quindi familiarista. Beh, è una cosa fa nella sua vita, si occupa di tutte le vicende che riguardano appunto una famiglia. Sia nella costruzione di rapporti come ad esempio le adozioni, e sia nella sua fase patologica, cioè quando una famiglia si disgrega, e l'avvocato, che deve essere comunque in questa materia assolutamente specialista ed esperto, interviene per cercare una soluzione. Vedete, nel diritto di famiglia non esiste mai una vittoria o una sconfitta, ma deve esistere una soluzione. Questa non è una materia sovrapponibile al diritto condominiale o a uno sfratto o un recupero crediti con tutto il rispetto per queste discipline. No, questa è una materia in cui tocchiamo con mano la sofferenza delle persone, gli interessi dei minori, gli interessi delle persone fragili, dei rapporti familiari. Pertanto l'avvocato matrimonialista, familiarista, divorzista è un avvocato completo ed è un avvocato completamente diverso dagli altri. A mio parere non è concepibile che un avvocato in Italia oggi possa fare di tutto, il cosiddetto tuttologo. Da più parti ormai si parla di specializzazione, ci sono leggi e decreti che parlano di specializzazione perché credo che soprattutto nell'ambito giuridico, giudiziario, legale, la specializzazione sia fondamentale per garantire il massimo risultato con il minimo margine di errore nell'interesse delle persone. separazioni, divorzi, sì ci occupiamo di tutte queste cose, ci occupiamo di bambini da affidare, ci occupiamo di assegni di mantenimento, la casa coniugale, quindi l'assegnazione della casa coniugale, ma ci occupiamo anche di violenza purtroppo. Vedete uno studio che si occupa del diritto di famiglia deve avere anche una preparazione in diritto penale e diritto processuale penale. Non possiamo lavorare a compartimenti stagni, uno studio che si rispetti deve avere al suo interno i migliori consulenti, psicologi, psichiatri, medici legali, commercialisti, anche perché il diritto di famiglia spesso ha diramazioni con il diritto societario, commerciale, e l'impresa familiare, il trust. Cioè voi capite benissimo quindi che essere un avvocato che si occupa del diritto di famiglia o diritto delle relazioni familiari non significa stampare da Google un prestampato di una separazione consensuale. No, è ben altro. Bisogna essere avvocati completi, che abbiano una visione d'insieme del diritto. A volte ci sono per esempio separazioni consensuali complicatissime, dove hai bisogno del notaio, del commercialista. Abbiamo poi delle successioni che fanno parte del primo libro del Codice Civile, quindi sono a pieno titolo una materia dell'avvocato della famiglia che abbisogna di tantissimi consulenti. E così la capacità di mediare, di essere assolutamente sereni, di non accendere il fuoco del conflitto, anzi spegnerlo, perché molte volte dietro dei disastri ci possono essere anche degli avvocati impreparati o incoscienti. Ripeto un concetto. Questa è una materia per specialisti ed è una materia che in qualche modo deve abituare noi avvocati a essere anche un po' psicologi, a sapere accogliere i clienti, a saperli gestire, perché la vera difficoltà in questa materia non è gestire la causa, ma gestire il cliente. Quindi quello che mi sento di dire a tutti i miei amici di YouTube e di tutti i vari social è appunto che la scelta di un patrono che deve in qualche modo salvare la tua vita non deve essere certamente quella del cugino o dell'amico dell'amico o del vecchio compagno di classe. Adesso è una scelta ponderata, dove la storia di uno studio regale, la storia di un avvocato, la sua preparazione devono avere un peso. E non sono certamente d'accordo con quegli avvocati, io che considero iscritti all'albo, che fanno gli sconti di fine stagione, che svendono la nostra categoria professionale, la sacralità della nostra toga, prendendo 500 euro o 600 euro per una separazione giudiziale che dura anni. Io vorrei capire qual è il livello della prestazione di questi professionisti, se così possiamo definirli, perché comunque la onorabilità, la dignità della nostra professione non si tocca. Quindi la scelta deve essere ponderata e soprattutto quello che io dico sempre, che la qualità di un avvocato non è quella di alzare la voce, ma è quella semmai di abbassare i toni, e cercare sempre di pensare agli interessi delle persone più deboli di questa vicenda, soprattutto i bambini, i quali non devono diventare nella maniera più assoluta un bottino di guerra. Per qualsiasi altra informazione e intervento, iscrivetevi al canale Studio Legale Cassani di YouTube. Alla prossima.